Chiara Zoccarato si candida con alternativa, ha una prima esperienza politica, come mai ha deciso di candidarsi? Beh, ho deciso perché in questo momento credo sia necessaria veramente una svolta, sia necessaria un'alternativa anche nella politica cittadina. È importante, è un momento di crisi e bisogna avere una visione ben chiara di quello che è necessario nel prossimo futuro. Padovana Doc, 48 anni, mamma di due figlie, professione impiegata, Chiara Zoccarato è la nonna candidata a sindaco in corso alle prossime amministrative padovane. Il suo nome è stato scelto per rappresentare la lista di alternativa al movimento nato da un gruppo di parlamentari ex 5 Stelle che nel Padovano ha come riferimento l'onorevole Raffaele Raduzzi. Ecco quali sono i punti fondamentali della sua campagna elettorale. Io vorrei anche riportare l'attenzione un attimino a quello che è il ruolo del comune. Intanto, come prima cosa, è un fornitore di servizi essenziali. Sembra banale, ma in realtà è fondamentale ed è proprio una cosa che manca. Devono esserci servizi continuativi, ma parliamo di acquedotto, viabilità, i rifiuti, e qui poi ci sarebbero tantissime cose da dire, ma anche gli uffici dislocati che funzionano a giorni alterni. Il problema anche degli allagamenti, sembra che sia sparito il rischio degli allagamenti, non se ne parla, e chi ci deve pensare se non appunto il sindaco. Per cui sicuramente tutte queste cose che sono importantissime. E poi ritrovare il ruolo del comune anche nell'indirizzo delle iniziative e anche iniziative economiche. Perché in questo momento ci sembra che più che un capace di dare un indirizzo, subisca l'indirizzo delle partecipate e degli altri attori economici. E questo non va bene.